ciao guerrieri questa sera parliamo di trapping a richiesta del nostro guerriero che ha accolto l'occasione del take away per la sua tecnica privata ha chiesto il trapping quindi l'arte di intrappolare lo vediamo un pochino più in modo realistico meno accademico l'attacco la difesa trovato l'ostacolo supera colpisco ok diamo l'applicazione di un pack sao quindi di un fermare un colpire e poi colpire qui insisto pugno corto gomito stretto boom ok gomito apro ginocchio hop gancio puglia catena 1 2 posso rompere ok ok intercettiamo l'app sao colpiamo 1 si va in alto in basso in alto ok apro ginocchio e giù è importante avere una zona ben protetta vado dentro ginocchio di nuovo 1 2 l'app sao tiro mano colpisce difesa ok a questo punto ancora controllo sotto bene sopra adesso lo scopo fait ok agerda va bene gomito Un pack già controllo colpa Ok controllo Taglio Controllo Controllo Ok 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 Lapsalo O guarda prima Ginocchio Ok Go Ok 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 Ok